Spotti va a nanna. Mamma, posso andare a dormire da Luca? Sì, per favore! Spotti, ma quante cose ti porti dietro? Non molte! È un'ottima cosa che tu abiti nella casa qui accanto, Luca. Spero di non aver dimenticato niente. Che cosa guardi, Spotti? Hai un nuovo scivolo! Fa' attenzione ai fiori, Spotti! Oh, troppo tardi! Dove sei, Luca? Non riesco a venire lassù! Dondolati sulla gomma! Spotti, tua mamma viene qui. Ma non è ancora mattina. Mamma, ciao! Cosa vuoi? Hai dimenticato questo! La mia mamma ci chiama, Spotti! È ora di andare a nanna! Cosa c'era nella borsa, Spotti? Oh, niente! Ti sei divertito, Spotti? Sì, mamma! Sì, e grazie per avermi portato l'orsetto! Finito!